Salve, mi puoi fare il conto per favore? Prendo pure Nagoliador. Certo. Scusa, quant'è? Nulla. Oggi offre CHS. Non capisco, mi spieghi meglio. CHS è lo spazio dove la tua fantasia diventa realtà. Se vuoi sapere di più, venga al 12 al Caffè Foyer a Salerno, alle ore 18. Aspettiamo. È gratuito. Vada, vada.